I ghiacci della Siberia svelano i segreti della vita. Non è certo la prima volta che i resti di animali preistorici emergono dai ghiacci, ma ora gli scienziati hanno davvero motivo di trepidare. Questo mammut intrappolato nel freddo ha serbato qualcosa di unico e preziosissimo, il suo sangue allo stato liquido e anche i suoi tessuti muscolari, un'occasione inedita che può consentire analisi approfondite. Abbiamo messo il campione del sangue nel freezer del Museo dei Mammut, ancora non si congela, la temperatura di meno 17 gradi centigradi, dobbiamo studiarlo approfonditamente per trarre delle conclusioni. Secondo gli scienziati questo animale è vissuto 10.000 o forse 15.000 anni fa, è morto probabilmente distenti dopo essere rimasto bloccato in quella che doveva essere una palude.